Gli Open Badge sono fotografie digitali di competenze con cui i formatori ti permettono di raccontare quello che hai imparato. Quando un formatore vuole assegnarti un badge, ad esempio perché hai completato un'esperienza formativa, riceverai una mail. Cliccando su vai, arrivi sulla piattaforma Bester per riscattare il badge. Puoi registrarti o accedere direttamente se hai già un'utenza. Dopo che hai riscattato il badge, vai sulla pagina I miei badge per vederlo. Il badge descrive la tua competenza ed il modo in cui l'hai ottenuta o dimostrata. Ma non solo, questo badge fa parte di un percorso, un pathway. Significa che aggiungendo altre competenze, puoi costruirti una competenza più ampia. Come è fatto questo percorso? Un pathway raccoglie tante singole competenze che portano ad una macro competenza. Ogni competenza è rappresentata da un badge. Il badge in oro è quello che hai ottenuto. Se vuoi arrivare alla macro competenza, devi ottenere tutti gli altri. Man mano che partecipi a esperienze formative, ti arrivano altri badge da riscattare. Dalla pagina badge in corso, puoi sempre tornare al pathway che stai percorrendo e vedere a che punto ti trovi. Quando hai raccolto tutti i badge previsti dal percorso, ti arriva il badge del pathway. Ora che hai completato il pathway, hai un nuovo badge e puoi dimostrare la tua macro competenza. Condividi il tuo badge online o inseriscilo sul curriculum per mostrare le tue competenze.